Basta un gol in avvio di gara di Fabio Delvino a decidere il match in favore del Matera nella sfida al 21 settembre Franco Salerno contro la Gelbison, un gol che vale l'aggancio dei Lucani al gruppone delle squadre a contendersi posti playoff e l'aggancio soprattutto ai campani. Tante conferme per Panarelli dopo la sconfitta a Matino contro il Nardò di domenica scorsa, ancora Infantino al centro dell'attacco con Ferrara a suo supporto assieme a Russo e l'inserimento di Di Palma dal primo minuto a centrocampo e in campo anche Delvino in difesa. Per Monticciolo invece un 3-5-2 con il duo d'attacco, croce e Bubas mentre esterni Casiello e Ferrante, Manzo a dettare i ritmi di gioco davanti alla difesa, Infantino viene pescato subito in una posizione di offside mentre dall'altro lato e Bubas a calciare da buona posizione direttamente però sul fondo ma al primo, vero, a fondo. Il Matera passa, calcio di punizione dalla tre quarti e Delvino anticipa tutti di testa beffando anche l'intervento sulla linea di porta di Camilleri e il primo gol con la casacca biancazzura del difensore Exandria e Virtus Francavilla. La replica della Gelbison è quasi immediata, il cross di Casiello viene intercettato da Della Pina, Ferrante calcio alto da buona posizione. Matera ancora pericoloso con il tiro al volo di Ferrara deviato da Milan, sempre Casiello invece, sponda campana, serve al centro dell'area di rigore un pallone invitante che attraversa tutto lo specchio della porta senza che Bubas però riesca ad intercettarlo. E' in fuorigioco Ferrara sul colpo fortuito di Russo, a nulla vale il tocco in porta del capitano Lucano, pericoloso alla mezz'ora il tiro di Maltese che non inquadra di poco la porta di Milan. Premono ancora i padroni di casa e al trentatresimo troverebbero anche il raddoppio, cross preciso di Russo da destra, Infantino la tocca in rete da pochi passi. Arriva però la sinalazione dell'assistente arbitrale che annulla la rete per un presunto tocco con il braccio dell'attaccante Lucano. Sono vehementi le proteste di casa, sempre Delvino, sempre di testa, sfiora nel finale di prima frazione la sua personale doppietta. Allo scadere è invece sempre l'asse Casiello Bubas a impensierire con un tiro al volo dell'attaccante argentino la porta difesa da Della Pina. Proprio l'estremo difensore viene sostituito in avvio di ripresa con l'inserimento di Paparella. Immediate le proteste di Croce per un presunto tocco di mano di sepe sul tiro ravvicinato del capitano della Gerbison, tutto regolare per il direttore di gara Mokulu. Appena entrato, calcia dalla distanza, palle in corner, poche le emozioni nella ripresa. Ci prova anche Croce dalla distanza, conclusione sul fondo. Maltese trova in profondità l'inserimento di Porro, il suo pallonetto viene intercettato però dall'uscita di Milan. Russo calcia di prima intenzione, sfera ancora alta, ma la Gerbison ha l'occasione buona per pareggiarla. In pieno recupero, il solito Casiello la mette al centro, da sinistra per la corrente Tuminelli da poco in campo, ma il suo tiro nell'aria piccola finisce alto ed è anche la parola fine sul match. I Lucani festeggiano nel turno infrasettimanale il ritorno al successo in una perfetta alternanza di vittorie sconfitte nelle ultime cinque gare, ma adesso ragionano la possibile grande di questo campionato, domenica nuovamente in campo, questa volta contro il pericolante Manfredoni in terra pugliese, rimandata da Gerbison che però domenica affronta ad Agropoli il Gallipoli.